Ciao a tutti sono Cavali e benvenuti in questo nuovo video, oggi porto molto semplicemente tre win diverse fatti con tre team diversi appunto prima ero con Luca e Micheluzzo, ho detto Mica, nella seconda ero con due ragazzi trovati a caso in una partita a caso Michael e Luca avevano staccato, ho detto ovvio normalmente a caso, vediamo magari trovo qualcuno di bravino ho trovato questi due ragazzi che erano bravi e ho detto vabbè andiamo avanti a giocare insieme due ragazzi di Napoli, appunto si sentirà benissimo dall'accento e poi abbiamo la terza vittoria fatta con Maku e Sonic che sono due ragazzi con cui gioco spesso anche su Warzone, sul Vernask e mi trovo molto bene con loro direi che abbiamo parlato abbastanza vi lascio al video, bella Sì, troppo da po', entriamo da qui, no l'ho smancato completamente proprio, vabbè questo vedo già un'arma quindi sono già contento, ma che cazzo ho aperto lo shop, trovo del groza voglio un pompino cosa? uno che scende da noi, uno che scende da noi raga scesa dell'area craccato a terra dove c'è lo shop eh, è lì vado a finirlo se riesco io da qua non lo vedo, ah raga ho tre persone, mi serve una mano interno e copertura beh uno craccato dove sono le mie robe? mi avete inquaduto pure la maschera, tutto mi avete inquaduto abbastanza no stiato, scusa no tranquillo uno che scende, uno che scende, dove eravamo adesso, dove eravamo adesso ragazzi è sceso ma porco diaz, questo pompa fa schifo ma poi questo è sceso con la mitraglietta leggendaria prendiamo l'oddy laga, l'oddy, oddio, quattro persone lì dentro ci sono al verde, eccolo, uno sul tetto minchia non ha portata sta cazzo di arma raga, dovete prendere l'oddy, avete i soldi ma c'è qua di sopra sul tetto ma niente, è qui, lo shop raga eh, dobbiamo andare prima però, cazzo raga Cristo sto cancello di merda che mi disattiva la mira assistita vengo sempre due nella casa blu sulla scala a terra no assist, uccisione, ok, è morto c'è un altro quindi, eh meno uno tre sono, tre a terra un full team arrivano, arrivano credo da lì sotto uccisione assist ah, mi è loccato da sopra, dalla finestra restatemi veloci costia madonna raga, non challengeatelo però, porca puttana, mi ha appena fatto ma ancora, porca puttana raga, col cecchino lì è rotto in culo è sceso, è sceso, è sceso cazzo qua, c'è un altro team c'è un altro ma porca dio, perché non si sparano tra di loro manca fossero compagni questi non erano compagni, c'è uno anche dietro io sono safe però abbassati, abbassati, sdraiato eh ce l'avete sotto raga, più grosso arriva da di qua però senza munizione però senza munizione eccolo uno di qua a terra uno ah vabbè tirito un altro qua dietro a terra godo di brutto proprio ah c'è un altro ragazzi, guardate, colpitemi, colpitemi, colpitemi fatemi entrare vai rest non lo vedo è in fondo, in fondo quello più grosso che si vede ah sopra, sopra via via no, no, no sono safe ancora bravi, bravi, bravi ragazzi bravissimi dov'è? ma è sul tetto? eccolo terra finito nooo italiano ha detto nooo qua sotto, qua sotto ah no, per la foto no, no conquista ok a terra l'ho ucciso l'ho ucciso come cazzo? ho ucciso uno c'è uno dietro dietro è atterrato a sinistra sopra eccolo davanti a noi a terra a terra a terra ok, ok si dovrebbe morire spero raga dobbiamo allevarci perché sennò c'è in culo la safe adesso ho visto gente scendere sul tetto di quel palazzo grosso andiamo verso il safe andiamo verso il safe uno qua davanti uno davanti uno davanti uno qua uno qua uno qua uno qua c'è un altro forse uno appena dopo e uno dentro cazzo vado a fare quello dentro dovete c'è amica ho fatto quello dentro dove l'altro aiuto vai vai prenditi quello ho preso la data no dove dove sono morto vabbè oh cazzo aspetta 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 non va a morire un tipo ho fatto arriva un altro uno sopra qua sopra qua sopra dove ci sono mi devo piastrare mi devo piastrare mi devo piastrare sciocca ho ucciso quello qua sopra sciocca sciocca eh raga giochiamocela no che cazzo faccio oh ho pieno di gente qua no 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 affacciatevi uno eliminato bravi andiamo prima vittoria ma sai che secondo me non era fatto il tuo un po' sai Luca 9776 so cambiamo un po' andiamo non so il Virgin Tower dove è Virgin Tower sai questo qua headquarter vai andiamo questo è qui sì sono quattro volti io ho l'RPG a terra è craccatissimo è craccatissimo mi stanno sponando con un cecchino ma è un mostro questo oh ma abbiamo pure gente di qua sai che secondo me non è è non qua ah non lo vedo non lo vedo no mi sono rotto il cazzo a terra che si è pushato si è andato a terra che si è andato a terra piede si corazzolo sì sì arrivo orca puttana no fra ma perché stanno sopra stanno sopra il nostro tetto mi ha fatto fai qua da me fra e questo non capisco perché cazzo mi deve finire orco dio io sono altro io sono altro io sono altro eh niente senti come ho pushato con l'X come cazzo si chiama poppa pure attenzione ragazzi c'è gente eh c'è gioco frizzato arrivo te lo shop sono due sono due sono due hanno due mozzi ah uno sul tetto no sulla che non ho capito puni via come cazzo si chiama dai ma porca puttana soltanto cecchini ci sono questo non è un cecchino scusate dammelo dammelo non ci credo aspetta facciamo così ti prego ah è mini AK ma cazzo ma come faccio a vedere il drop ho intuato qualcuno mi so c'è uno lì non lo so se puoi ma ce n'è uno qui ok ci sono ma questo questo mi busce male ma questo mi busce male ma cazzo ma cazzo cazzo non posso ucciderlo l'ho ucciso l'ho ucciso hai hai ottimo mt5 la prendo ragazzi devo tirarlo eh devo tirare il drop io però non so come tirarlo c'è una cassa di munizioni vi serve cassa di muni ma ragazzi tiro il drop qui ci vediamo da qui cioè vorrei tirare il drop io più che altro non ho più il drop ragazzi che faccio c'è il ping eccole uno sono sopra sono sopra crepa come è lento come è lento smp5 a caricare dobbiamo prendere questa casa ci dobbiamo prendere c'è uno solo vai andiamo 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 eccolo dove cazzo è andato è uscito da qua per forza è scomparso 7 metri oh no è qui era sdraiato sta merda si ragazzi crackate sopra crackate qua sopra adesso uscende uscende sotto qua sotto qua sotto qua mi sono morto sta facendo un giro ma ha tirato un grappolo porco è morto credo sia morto credo si può venire da te state vicino state vicino no no sono morto sono morto c'è uno più giù c'è uno più giù l'ho visto l'ho visto c'è un altro dietro di lui un po' più giù non riesco a restare adesso mi fai se ce la fai abbassati però ti prego bello bella avrei stata una vittura non goduta vabbè va bene va bene che fai la butti sentito qualcuno c'è un'arma una terra c'è uno là orca puttana auto resti auto resti è ancora lì sì sì è ancora da bello hitato cioè non è vero gli ho dato due colpi ho dato una puttanata sempre qua sopra uno che scende il compagno bello hitato orca puttana è subito qua eh no vado a prendere no cazzo scappo ah cazzo uno che a terra là al sito c'è uno javelin ma che cazzo me ne faccio uno javelin scarico tra l'altro è vero qua 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 c'è uno a questa casa l'ho appena visto fatto uno uscio di sopra qua davanti qua davanti fatto stimolentato oh no mi fanno mi fanno da fuori cazzo a terra fatto arriva arriva si 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 vai tranquillo uno è discesa altra casa cosa mi sa eh è dentro è dentro da noi no 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 che ulpi sono due oddio che culo da un altro stai dietro qui 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 da un mio similissale buono sono rientrato io cambia ancora posto raga oh si oh si la mac 10 c'è solo il nostro oh tra l'altro è personalizzata vanno chiuso fanino fanino mamma mia mamma no vabbè quello col pompe c'è andato vabbè e la band deve esistere eh scavo qua molto eh c'è un altro eh riperoni proprio datti 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 buttati di sotto ma come è possibile raga sono io qua allo shop non ho visto nessuno raga eccolo qua vabbè torno in azione voglio una ricognizione mi push a uno mi sa eh raga è sul tetto ha craccato dentro quella casa no no la granata no no vabbè c'è uno sotto vabbè c'è uno sotto a pinto e veno io non lo prendo l'odio non lo prendo l'odio è male che capisca dietro 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 forco diaz peccato uno in questa casa in questa casa a destra è sceso forse eccolo si è qua davanti qua è sceso fatto a terra c'avete a destra del t2 a destra mi sembra no dico una cazzata bene siete in vantaggio siete in vantaggio oh si si io sono non è vero fa cagare eccolo a terra c'è l'altro c'è l'altro c'è l'altro sento uno guarda me fatto subito raga prima mi piace un sacco questa modalità è proprio rapida è carina si si è carina allora guarda vazzi vai riabbiamo un'altra si bene ecco quindi le tre win fatte in contrattip diversi questa è una cosa un po' particolare appunto ho voluto portare queste tre win in un video molto più compressato rispetto al solito perché non sono partite super eccellenti l'ultima è stata forse la più carina perché abbiamo cambiato ogni volta la zona cioè atterravamo in un punto poi atterravamo nell'altro e poi abbiamo gestito la safe finale molto molto bene infatti se io non avessimo cambiato spot ogni volta che ci hanno uccisi probabilmente non saremmo riusciti a vincere perché il cambiare spot ogni volta ci ha concesso poi di trovarsi nella zona di vantaggio avendo fatto tutto il giro della mappa fino ad arrivare dal centro verso il basso poi che ci ha consenso appunto di avere quella zona di vantaggio alla fine anche la seconda abbiamo avuto una buona zona di vantaggio la prima anche lì in realtà su tutte le zone di vantaggio non è che ci penso mi sta girando beh è incredibile guarda io da quando ho spezzato una disdizione è tutto perfetto benissimo sono un po' detto tra l'altro volevo farvi notare che non mi ero accorto durante mentre giocavo mi sono reso conto che praticamente quando nella terza partita il tipo era essato quello che io non trovavo che era poi nell'angolino qualcuno dai miei compagni ha preso una taglia e io l'ho completata giuro un secondo dopo cioè la taglia più veloce del mondo io non ho mai fatto una roba anche lì che culo incredibile ma benissimo lo accetto lo accetto ragazzi ci becchiamo al prossimo video lasciate un like un commento e tutto ciò che e iscrivetevi perché bisogna iscriversi per supportare questo piccolo canale aiutatemi a crescere se avete qualche richiesta su qualche video particolare le accetto assolutamente qualche challenge non so qualsiasi cosa ah ricordatevi che non sono un fenomeno quindi non ditemi di vincere una partita di Verdansk con un RPG perché potrei avere problemi ma forse anche un power un velox avrebbero problemi in realtà ci può stare tipo camperare tutta la no non pensiamo a queste cose dai signori ci becchiamo al prossimo video spero che vi sia piaciuto questo e credo che arriveranno altri format di queste partite compattate non sono facili da editare quindi ecco un pollicione in su e un'iscrizione importante bella ciao a tutti ciao a tutti